Simistamento di ferrovia a San José Mi aggiravo desolato davanti a una fabbrica di carri armati e sedevo su una panca accanto alla capanna del manovratore. Un fiore giaceva sul fieno, sulla strada di asfalto. Il fiore di fieno del terrore, pensai. Aveva uno stelo nero, ispido e una corolla di sporche spine giallastre, come la corona di Gesù. Lunghi un pollice e un sudicio batuffolo di cotone secco al centro, come un pennello usato da barba che è rimasto sotto il garage per un anno. Giallo, fiore giallo e fiore dell'industria. Anche se brutto fiore spinoso, fiore lo stesso, con la forma della grande rosa gialla nel cervello. Questo è il fiore del mondo. A presto! Grazie a tutti.